Presidente Postachini, le chiedo il significato politico e culturale di questa vostra appunto di sostegno del prodotto natalizio artigianale da forno. Il significato politico viene da sé perché i panificatori fanno parte della grande famiglia Ascom fin dalle origini e quindi si tratta in qualche modo di sostenere un ruolo consolidato nel tempo che però ha sempre bisogno di in qualche modo rassicurare su quello che fa e far conoscere i prodotti che fa facendone cogliere la differenza rispetto a tanti altri prodotti. Il tutto si svolge in una campagna di comunicazione in un periodo in cui questi prodotti sicuramente hanno un loro apice di interesse e di consumo e quindi da parte nostra c'è l'appoggio nella comunicazione affinché il prodotto venga riconosciuto e ne venga colta la differenza. Il senso di questa vostra campagna di comunicazione in particolare partiamo dal marchio, il pane fresco artigianale. Il marchio è un'iniziativa della federazione italiana panificatori per riuscire a distinguere il pane prodotto in giornata dal panificatore artigiano da quello sul gelato in modo che il consumatore venendo nelle nostre botteghe e trovando questo marchio distingue il pane fresco da quello sul gelato. Quali sono i prodotti natalizi artigianali da forno che state per promuovere qui per Natale? I nostri prodotti tipici del territorio sono il certosino e il panone, però il panettone è diventato il dolce tipico nazionale e abbiamo inserito anche lui perché molti panifici artigiani lo producono direttamente nelle loro aziende. Ti dia qualche indicazione dell'importanza del pane oggi e come viene consumato? Il pane oggi è un po' in sofferenza per i ritmi di vita che abbiamo, non abbiamo più il pranzo, lo consumiamo solo nella cena serale. Infatti adesso speriamo di invogliare i nostri panificatori a produrre un pane che venga sfornato per le 18 per dare un prodotto fresco al consumatore. Ovviamente dalla vostra tradizione artigianale di Bologna sappiamo che il pane è sempre di ottima qualità, no? Perché è così? Da quali anche ingredienti viene fatto? Quale qualità riuscite a mantenere? Perché il pane ha pochi ingredienti, il pane di ingredienti ha farina, acqua, sale, lievito e olio extravergine e qualcuno gli mette anche un po' distrutto che è quello che dà più friabilità al pane. E poi il panificatore bolognese della provincia hanno passione perché sono artigiani, sono nati per fare questo lavoro e sono proprio attaccati al mestiere. Grazie a tutti.